Siate buoni? Sono intonato? Abbiamo già dei problemi? Bella, ma non c'entra niente. È il battagliero. Anche questa è un'altra cosa. Comunque la Renza aveva ragione. Sono ringiovenito? Cosa? Ha ricoglionito. No, ce l'ho più. No, ce l'ho più. Allora, diciamo una cosa, che io sono avvantaggiato, anche se sono, come diceva... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti